Regione Marche e Azure Marche presentano MyCoop Marche, l'app scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store. Cosa puoi fare con l'app MyCoop Marche? Puoi prenotare visite ed esami sanitari online, da PC, tablet e smartphone. Senza dover telefonare, senza recarti allo sportello. Puoi pagare la prestazione in modo comodo, semplice e veloce online. Inoltre, puoi anche disdire gli appuntamenti e permettere così ad altri di prenotare. Alcune cose da sapere prima di utilizzare l'app MyCoop Marche. È stato introdotto un sistema che garantisce la prestazione richiesta entro i termini stabiliti. Visite per classi di priorità La tua privacy ci sta a cuore. Per accedere, devi essere in possesso del codice di autenticazione, cohesion o speed. Devi chiedere al medico la ricetta dematerializzata. Puoi prenotare una prestazione alla volta. Se necessiti di più prestazioni abbinate, rivolgiti al Coop. Le prestazioni prenotabili online sono quelle contenute nel Piano Nazionale Gestione Liste Attesa. Per accedere, visita i siti internet cohesion.regione.marche.it www.speed.gov.it Le tue prenotazioni sanitarie a portata di clic.